Siamo stati al Career Day e Alma Orienta e abbiamo intervistato alcuni ragazzi per conoscere le loro idee sul futuro. Per vedere quale indirizzo mi corrisponde di più, vorrei chiarire i miei dubbi, comunque sono già indirizzata sull'ambito umanistico. Per vedere l'Università Giurisprudenza. Sono qui perché ho visto che c'era Scienze Motorie e sono interessata e anche per curiosare un po' tra le altre facoltà. Ho ancora qualche dubbio tra Scienze Motorie e Ingegneria, sono due cose completamente diverse, infatti bisogna scegliere bene e per questo motivo sono venuto qua. Io invece pensavo a Psicologia e Economia e Marketing, è completamente diverso anche questo, però mi ispiravano, sono venuto qua a vedere. Io nella mia classe ho visto anche abbastanza persone che sono indecise su cosa fare, alcuni anche non vogliono proprio fare l'Università, preferirebbero andare direttamente a lavorare e sono qua appunto per farci un'idea. Non ancora sono sicuro su cosa fare, diciamo molte idee tra Ingegneria ma anche all'esempio giurisprudenza. Penso di fare Economia, non ho ancora bene scelto il corso di studio, sono qui perché c'era l'Open Day dell'Università e sono venuto a informarmi un po' sui corsi di studio. Mi sono laureata da poco a novembre e spero di riuscire a trovare un lavoro, quindi prevalentemente sono venuta per la RAI perché appunto mi sono laureata in cinema e quindi speravo appunto di ricevere qualche informazione anche per quanto riguarda stage, tirocini, insomma per il futuro, ma un po' anche per farsi un'idea sul mercato del lavoro. Sono qui perché sono in procinto di laurearmi, quindi spero di trovare giusta continuazione a quello che è stato il mio percorso di laurea finora, quindi insomma trovare un lavoro, cominciare a entrare in questo mondo che di chi tanto abbiano sentito parlare è finalmente arrivato il momento. Allora, io sono laureata all'Università di Bologna in Ingegneria dell'Architettura, quindi ho visto sul sito del Career Day che ci sono varie opportunità tra le aziende qui presenti e quindi ne ho approfittato per lasciare un po' di curriculum, fare qualche colloquio. Sono qui per lasciare il curriculum a qualche azienda, io ho studiato Biologia e ho visto che c'è qualche azienda che dovrebbe ricercare posizioni nel mio settore.